Dall'arresto per droga dei genitori che la facevano dormire in un letto in cui erano nascosti armi e stupefacenti alla fuga da San Giovanni Tiatino dopo essere stata prelevata dalla casa della nonna alla quale era stata affidata. Le disavventure della bimba di otto anni che lo scorso 25 maggio era scomparsa da San Buceto sono finite in Germania nella cittadina di Duisburg dopo 40 giorni di ricerche. La piccola affidata alla nonna dopo che ha entrambi i genitori arrestati lo scorso aprile dai carabinieri di San Buceto perché implicati in un giro di stupefacenti era stata tolta la potestà genitoriale si trovava in casa della zia paterna latitante da sette anni anche lei per traffico di stupefacenti e infine arrestata in Germania. La 49enne era inserita nell'elenco dei 50 latitanti più pericolosi redatto dal dipartimento centrale della polizia criminale del ministero dell'interno e ora dovrà scontare oltre 18 anni di reclusione pena attribuitale al termine di una complessa indagine condotta dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Pescara e coordinata dalla procura della repubblica presso il tribunale della città adriatica per reati commessi tra il 2006 e il 2017 e riconducibili a produzione, vendita, acquisto illecito di stupefacenti ed evasione. Quando la polizia tedesca ha fatto eruzione nell'appartamento di Duisburg per dare seguito al mandato di arresto europeo a carico della 49enne latitante in casa c'erano anche la bambina scomparsa più di un mese fa a San Buceto dopo essere stata sottratta dalla madre, anche lei fermata in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla procura della repubblica di Chieti il 30 maggio scorso e il compagno 48enne della zia paterna latitante destinatario di un ordine di esecuzione di pena di quattro anni per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Madre e zia paterna della bimba sono state condotte in carcere a Duisburg in attesa della convalida dell'arresto ai fini dell'estradizione mentre la piccola è stata affidata ai servizi sociali della cittadina tedesca prima di essere ricondotta in Italia dove il tribunale dei minori dell'Aquila avviera la procedura di adottabilità della bambina. Il cerchio si è chiuso al termine di un'indagine articolata condotta dalla squadra mobile della questura di Chieti e coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Atino dopo essere stata avviata nell'immediatezza della segnalazione di scomparsa della bambina di otto anni. Acquisizione di immagini e perquisizioni sia locali che informatiche hanno consentito agli investigatori di ricostruire il percorso della fuga in autobus della madre insieme alla piccola fino alla tedesca Duisburg. La donna oltre alla violazione dell'obbligo di dimora dovrà rispondere anche del reato di sottrazione di minore. L'attività all'estero è stata condotta dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia del dipartimento della pubblica sicurezza. Nel corso delle indagini sono state denunciate alla procura della Repubblica di Chieti complessivamente sei persone, tutte familiari della bambina, ritenute complici della madre poiché pienamente consapevoli dell'organizzazione della fuga, considerato il colpevole ritardo nella denuncia di scomparsa della minore pur essendo formali affidatari della ragazzina. Intanto si continua a indagare per individuare altri complici e fiancheggiatori di una vicenda penalmente complessa, chi ha incrociato traffico di droga e sottrazione di minore.